Salve a tutti in questo video vediamo come entrare nelle fogne su Stardew Valley. Prima di poterlo fare dobbiamo donare al museo 60 oggetti precisi. Una volta fatto Gunther ci darà la chiave che ci permetterà di sbloccare le fogne, quindi basta andare a sud del paese e interagire con il coperchio. Entrata delle fogne sbloccata con la chiave arrugginita. Qua dentro troviamo un fantasma che ci venderà degli oggetti rari. Eccolo qua, si chiama Corobus. L'oggetto più interessante secondo me è lo scettro che ci consente di teletrasportarci sempre a casa. Qua ci sono intanto altri oggetti interessanti come l'uovo del vuoto, un paio di ricette, un astropomo ed eccolo qua, lo scettro che ci permette di tornare a casa, lo scettro del ritorno. Più avanti nel gioco, Corobus ci sbloccherà un passaggio verso un altro particolare, ma quello magari lo vedremo successivamente. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti.